Ciao, fate 100 come ordine di grandezza, di importanza, tutte le disgrazie che stanno succedendo in quel dell'Ucraina a livello umano, a livello sociale, a livello politico, militare, economico, tutto, cioè le cose, se fate 100 come importanza tutte queste cose qui, a 0,1 c'è un'altra conseguenza che questa situazione sta avendo e cioè che Petrucci e Gandini è un dicano più niente, proprio loro zitti muti, non c'è verso e quindi io vorrei sfruttare questo video per aggiungere il mio personalissimo appello alla pace a tutti quelli che sono stati ben più seri che sono stati fatti in questi giorni non lo volete fare per i morti, non lo volete fare per la politica, per la guerra mondiale, per l'economia, per la crisi, per le cose importanti quindi fatelo, ahimeno, per i bene di questa rubrica così che poi arriverà Petrucci e dirà ma hai raccontato di quella volta che ho inventato la pace? MVP, miglior giocatore di giornata Daniel Ahet perché sinceramente era difficile ripresentarsi al campionato italiano in una maniera migliore piuttosto che essendo il miglior giocatore del derby di Bologna vinto dalla sua squadra io dei dubbi ce li ho sul nuovo assetto della Virtus ora che l'ho visti giocare, anche se siamo solo all'inizio ma su Daniel assolutissimamente no mai avuti proprio dai tempi della Benetton Treviso di Gary Neal, CJ Wallace, Sandro Nicevic e quella gente lì quando esordini campionato italiano se vi volete divertire, amici bolognesi provate a chiedergli la storia di Boncito non so se ve la racconterà quantomeno a livello pubblico però ci potete provare miglior italiano Andrea Cinciarini perché ragazzi 18, 18, 18 assist ora io c'ho la classifica lì il 18 assist è record all time va bene tutti i tempi eguagliato Luca Vitale e l'ha fatto per due volte 18 assist loro due sono davanti a gente che si è fermata a quota 16 come Tony Huchoc segnata lì la lista Dee Brown Gerald Robinson Marquise Green e Ronald Moore tutti fermi a quota 16 c'è un tasso di cui cestistico in questa lista che ne manco ha immensa il mensa Zion il quella è la mensa è un'altra cosa Pesaro contro Brindisi promosso Marex Meijeris perché al di là della quasi doppia doppia che comunque la dei sempre fare l'apporto difensivo che ha aggiunto e ha fornito alla causa soprattutto in avvio quando l'inizio della VL non è che sia stato poi così tanto scoppiettante è stato impagabile le prime impressioni sono che se oggi finissi il campionato avrebbe fatto più lui in una partita che Demetrio in tutto l'anno bocciato Alessandro Gentile perché anche dopo averli visti è una partita sola ma i miei dubbi sulla coesistenza possibile tra lui e di Angelo Harrison persistono l'ho visto anche abbastanza nervoso non lo so secondo me è una situazione che andrà un pochino monitorata nelle prossime settimane in frattempo menzione speciale per Deziu perché onestamente non era facile non riuscire a fare meglio di Hartel e quindi fino a che gioa così io lo pronuncio come mi pare va bene Venezia contro Trento promosso Mitchell Watt perché tanto per cambiare 19-15 19-15 è tanto occhio ragazzi alla Reier perché ha passato tutta la prima parte di stagione a abbassare le aspettative c'è riuscita perfettamente devo dire in maniera egregia e quando fa così è pericolosissima una cosa potrei aggiungere Giulianino Pietra contro il pubblico no però cioè tipo l'ultimo che fece una cosa di genere stessa maglia peraltro fu Andre Smith e non gli andò a finire benissimissimo bocciato Dominic Johnson perché io me lo ricordavo un pezzo in là ma devo dire che ora proprio te lo servano ai tavolo con la salsa verde Dominic Johnson non avevo capito come spesso mi succede come mai Trento l'aveva preso io col mercato di Trento non ci acquisco quasi mai niente poi con la partenza di Wes Saunders mi si è chiarito il perché però Dominic Johnson come Deziu Milano contro Trieste promosso Caleb Targeschi perché ha fatto vedere effettivamente cosa potrebbe dare un centro dominante in più a una squadra sistemata formata creata e rodata in questo modo come giustamente mi avete fatto notare non è una questione di soldi ma è anche cioè non è soltanto una questione di soldi ma è anche una questione di tesseramenti il problema è che in Eurolega con tutti i rispetto non giochi contro Delia e quindi il buon Tarcisio insomma è tornato Dino lo voglio rivedere insieme a Bentil lo voglio rivedere insieme a Bentil bocciato Franco Sciani perché la sensazione è che lo staff in toto abbia un po' perso il contatto con questo gruppo con questa squadra è chiaro che Trieste non deve cercare i punti che gli servono contro Milano però guarda caso contro Milano all'andata ci aveva vinto sono passati tre mesi sembrano passati tre anni però a giudicare proprio dalle due versioni di Trieste non penso che ci siano particolari problemi da un punto di vista di classifica però il rischio purtroppo è un finale di stagione un po' anonimo Sassari contro Tortona bocciato Piero Bucchi perché il turnover l'avvicendamento Bilan Mehovulu era il più immediato però non lo so è tutto l'anno che a Sassari gli manca un lungo va bene ora il lungo è arrivato e è anche buono e Dejo è anche titolare e però se poi metti fuori Mehovulu soprattutto per privilegiare un plotone di esterni che non è che proprio stia facendo così tantissimo canestro e il problema del lungo che mancava rimane la sensazione è un po' quella di Harrison a brindisi cioè li dove i prende perché se hai questa occasione lo dei prende Bilan lo dei prende Harrison però lo staff non era pronto forse non se l'aspettava ci sta promosso Chris Wright perché è uno di quei giocatori che divide quantomeno la mia persona nel senso che a me non mi garba tendenzialmente io non penso che si possa costruire un progetto una squadra importante di un certo livello anche di classifica con Chris Wright soprattutto facendogli fare il play però è anche vero che pigli un paio di Chris Wright cioè di giocatori alla Chris Wright e li metti in una squadra e i punti salvezza te li fanno quasi da soli quindi tutto sommato Brescia contro Treviso promosso Michael Cobbins perché se giocasse sempre così forse forse non ci sarebbe neanche bisogno del famigerato lungo che è tutto l'anno che io vado invocando la stampa unita tutta online cartacea televisiva vole dagli vole affibbiagli a Brescia a Kuzminskas in tutti i modi è una settimana che non c'è versi di Deampigliac Kuzminskas e però la società non lo vuole c'è questo piccolo dettaglio e continuano a smentire boh non lo so bocciato Max Menetti perché esattamente come è successo a Trieste con Ciani mi sembra che si sia un po' scollato il legame il contatto tra lo staff e la squadra lì ci vedo più un qualche cosa a livello proprio personale di rapporti qui ci vedo più un discorso di forma cioè questa squadra mi pare proprio scarica i cinesi li farebbero giocare tutti con un Gatorade a arto come Dwayne Russell per terra ai piedi tutte dieci in campo e Derek Cook Derek Cook ma Derek Cook tipo Dezio anche lui Cremona contro Reggio Emilia bocciato il roster perché io più che si va avanti e più che ho l'impressione e a differenza delle altre squadre che lottano per la salvezza e qui manchi proprio la qualità all'interno cioè tutte le altre ognuno ha dei problemi chi lotta per la salvezza però le risorse sulla carta ce l'avrebbe a Cremona mi pare e Juskevicius come voleva si dimostrare giocatore onesto ma mi pare un po' poco per provare a salvare la baracca promosso Justin Johnson perché io sinceramente per non sapere né legge né scrive piglierei quello che ha preso lui cioè quello che ha preso lui nella pausa delle nazionali qualsiasi cosa abbia fatto lo voglio anch'io e si starà a vedere non lo so che è successo una cosa però la so che con Larsson e Thompson se tanto tanto a Reggio gli viene voglia anche di aggiungere Jean Salumu ecco Larsson Thompson Salumu secondo me è un terzetto papabile proprio da Hall of Fame dell'inutilità esiste si fa Fortitudo Bologna contro Virtus Bologna bocciato Antimo Martino perché se da un lato è vero e è vero che ha fatto anche troppo perché se l'è lottata fino alla fine con una squadra che ha un terzo ma forse anche un quarto del potenziale del talento della Virtus quindi sotto un certo profilo ha fatto anche troppo però dall'altro lato io vedo 12 più 27 39 minuti del duo Aradori Feldin 39 minuti del duo Aradori Feldin e io e poi oltretutto io mi voglio anche autoconvincere mi ci voglio convincere che Procida abbia giocato e dominato quel poco che ha giocato e dominato e poi gli sia venuto in mar di schiena proprio fulminante di solito non funziona così cioè di solito se uno ha in mar di schiena e sta male giochicchia giochicchia non è che domini e poi a un certo punto tra il corpo della strega e devi smettere quindi mi verrebbe da pensare che magari forse poteva stare in campo anche un pochino però però io mi voglio autoconvincere promosso Nico Mannion perché ora che il suo minutaggio si è verosimilmente accorciato per forza di cose bisogna puntare più che altro sulla qualità e quel 2 su 2 a fine partita quando conta più di sempre nel derby di Bologna con la partita in bilico non lo fanno proprio tutti tutti i ventenni ma manco i trentenni e manco i quarantenni probabilmente Napoli contro Varese bocciato il mercato di riparazione perché se da un lato d'estate il mercato di Napoli non è stato niente male anzi e poi quando c'è stato da aggiungere quarcheduno in corso d'opera Pargo è andato via lince un gioca Totè e Vitali guardano per cui non lo so poi è arrivato l'esonero di Saripanti che mi è sembrato più un esonero preventivo cioè fino a che la classifica tutto sommato regge muoviamo per poi non trovarsi con l'acqua alla gola quindi tutto sommato ci può anche stare io tra i due nomi che si fanno non piglierei Buscaglia perché non mi sembra sapete quanto io lo adoro ma non mi sembra un allenatore da poter aggiungere in corso d'opera cioè a stagione in corso Pancotto invece ha un feeling particolare date le esperienze passate con Luca Vitali promosso Johan Royackers perché semplicemente non ha sbagliato una da quando è arrivato ultima della lista è che pare David Bluthenthal da quando veste la maglia di Varese cioè fa sempre a nestro non c'è molto altro da dire lui rischia Royackers di aver preso una squadra che nel corso del campionato ha perso tutto il quintetto tutto il quintetto e l'allenatore e la porta ai playoff al momento Varese farebbe i playoff io non penso che una roba di genere sia mai successa proprio nella storia della pallacanestro mondiale non italiana mondiale e poi Dunkest sono riuscito o come ho fischiato sono riuscito a rientrare nel campionato di campo aperto di cui nel frattempo state vedendo in sovraimpressione i codici per entrare a far parte vincono la giornata i pinguini De Longhi 249,3 punti Giaite Olisevicius Benzius Cicciarini titolare e capitano e Robinson della Valle Sesto Uomo in Bro Ferrero Severini Borra e Roy Hackers in panchina questa invece la classifica giornata Filiberto Matteo Stefano Marco Davide Steve e Giulia e basta oggi che giorno è oggi è martedì quindi domani c'è i quasi gaming giovedì ci si vede su Twitch alle 6 e mezzo per il gruppo di recupero settimana poi prossima non so settimana prossima è un macello probabilmente settimana prossima i tippagellone un c'è perché non ve lo posso dire ma insomma ma io ma che le fo a fare le conclusioni intanto non vi posso dire nulla so qui a dice questo ma non ve lo posso dire quell'altro non ve lo posso dire quindi niente ciao ciao